Una foto e uno sfogo che arrivano all'ora di pranzo via social. Dalla propria pagina Facebook, Guido Bertolaso, consulente del governatore Attilio Fontana per il piano vaccinale, scaglia parole di fuoco contro la piattaforma Lombarda per la prenotazione dei vaccini di Aria S.P.A., la società regionale per l'innovazione e gli acquisti. Nel mirino dell'ex capo della protezione civile c'è l'errore di Aria che ha inviato 900 convocazioni per i vaccini al posto delle 600 previste. Risultato, una folla di anziani in attesa davanti al centro vaccinale di Niguarda. È una vergogna e mi scuso con loro, ha sbottato Bertolaso, che ha spiegato quindi di aver mandato la protezione civile ad assisterli. Non è la prima volta che il portale di Regione Lombardia non funziona come dovrebbe, al punto che lo stesso Bertolaso ha spinto affinché la Regione si affidasse per la campagna massiva alla piattaforma gratuita offerta da poste italiane. Una polemica che offre il fianco della maggioranza regionale alle critiche pesanti dell'opposizione. Regione Lombardia è un disastro senza fine, afferma Vinicio Peluffo, segretario del PD Lombardo. Una ne pensa e cento ne sbaglia.